Passata la prima, c'è ovviamente tanta soddisfazione, non eravamo certi, non sapevamo quale versione di noi stessi saremmo usciti a mettere in campo a livello tecnico, però avevamo l'ambizione e la pretesa verso di noi, per rispetto verso noi, per rispetto verso il nostro lavoro, di mettere in campo una squadra emotivamente pronta, era l'unica cosa che potevamo essere sicuri che era sotto il nostro controllo, siamo riusciti a farlo, i ragazzi sono stati veramente bravi in questo, abbiamo superato un paio di momenti difficili, uno soprattutto nel secondo guardo, una squadra ancora non quadrata, ancora non rodata come la nostra, che si allena insieme da una settimana e quindi visto che ho vinto non lo sto usando come alibi, poteva rischiare veramente di avere una debacle in quel momento, invece abbiamo ottenuto, siamo riusciti a reagire di squadra, di gruppo e questo ha fatto la differenza insieme alla capacità che abbiamo avuto di stringere le maglie difensive nel secondo tempo, abbiamo fatto un secondo tempo difensivamente di grandissima energia intensità ma anche tatticamente molto accorto, a un minuto dalla fine, Sassari aveva sempre 27 punti, tanti quanti avevano subito nel suo secondo quarto e penso che la partita sia lì, la reazione del secondo quarto, la capacità di focalizzarsi su una parte del gioco che era quella offensiva, offensivamente diciamo che l'avere continuità nel mettere la palla vicino a ganestro con fiducia ai nostri lunghi sia per le loro conclusioni ma anche per poi trovare conclusioni con gli esterni ma soprattutto per non dare modo a Sassari di con continuità mettere pressione ai nostri esterni e professivamente saltarla dalla cosa che più ci ha aiutato.